E per notizie di sport apriamo con il ciclismo risultato prestigioso per Federica Venturelli che sulle strade del Bergio ha raccolto la seconda posizione nel Giro delle Feandre Juniors terminando alle spalle soltanto dell'inglese Ferguson. Mentre si è chiusa in bellezza l'edizione 2023 della volta femminile per Silvia Persico. La 25enne di Cene ha concluso in terza posizione la quarta e ultima tappa della competizione spagnola vinta dall'olandese Vollerging. Mentre Martina Finanza ha dimostrato di poter mettere paura alla Copecchi e alla 23enne di Brembate sopra ha infatti sfiorato il successo nella Venendal Classic inchinandosi soltanto alla velocista belga. Domenica 21 maggio al Drara San Martino si è svolta la classica e tradizionale corsa in montagna al Memorial Prevani dove sono Sara Bottarelli per le donne e Alex Baldaccini per gli uomini a firmare il successo. Per le donne prima a partire alle ore 9.30 è la Bottarelli, quinta agli italiani apparsa in netta ripresa a vincere davanti alla Vivienne Bonzi. Terzo posto per Stefania Cotti Cottini delle Legnami Pellegrinelli. Negli uomini invece lo spettacolo fanno Alex Baldaccini, GS Erobi e la sorpresa degli italiani di Limana, Luciano Rota, Re Castello, un testa a testa fino a quasi agli ultimi tornanti che portano al passo dei Colli Sanfermo. Qui è Baldaccini che allunga sul rivale che non riesce a tenere il passo e con la treta brembano che taglia per primo il traguardo. Secondo posto per Luciano Rota al terzo più staccato Manuel Zanni, sempre del GS Erobi. Per il Fosso Bergamasco di Gautesta e Luisa Gelmi vincono a Calobbio degli Angeli sotto la pioggia. Complice un parterre particolarmente nutrito che ha visto al via 343 la terza frazione del circuito ha regalato un intenso spettacolo che ha visto la treta del gruppo alpinistico vertovese trionfare sotto una pioggia intensa. A completare l'ottima serata del gruppo alpinistico vertovese ci ha pensato Luisa Gelmi che ha fermato il cronometro in 30 minuti e 42 secondi davanti a Chiara Milanesi, runner Bergamo e a Cristina Cotelli, atletica Paratico. Mentre si è tinta d'argento la domenica di Nicole Colombi e Federica Curiazzi che sono salite sul podio agli europei squadri di marcia. La 27enne di Villa di Serio e la 30enne di Barzano hanno condotto l'Italia al secondo posto nella 35 chilometri femminile chiudendo con 25 punti alle spalle della Spagna. E in fine la Sardegna si conferma una terra particolarmente fortunata per Antonino Lollo. Il 32enne residente a Villa Donia si è infatti giudicato la prima edizione della joint run andata in scena a Cagliari nella mattinata di domenica 21 maggio. Per il basket la Blue Basket conquista la terza vittoria con Rimini e guadagna l'accesso per le semifinali e per gli off anche gara 4. La pala Flaminio di Rimini viene condotta in porto dai giocatori finali. per il 3-1 che lancia i Bianco Blu in semifinale. Dopo il passaggio a vuoto in gara 1 la Blue Basket infila un riscontro ai successi con il quale supera Rimini, avversaria di grande valore. Sul parquet del pala Flaminio è festa per i vingitori e vinti. Un applauso va anche ai tifosi Bianco Blu a corsi ad assistere il match decisivo anche loro con la raccolta fondi a favore della popolazione romagnola. La Blue Basket torna in campo per le semifinali gara 1 sabato 27, gara 2 lunedì 29 maggio, sempre al pala Facchetti con inizio alle ore 20 e 30. L'avversaria questa volta sarà Torino che ha chiuso a favore sul 3-1 la serie dei quarti finali contro Uriania e Milano. E andiamo a sentire alcune battute sulla partita ma non solo sulla partita. Infatti partiamo da uno dei capi del supporters della formazione del Trefiglio perché veramente meritano, meritano tanto questi tifosi e ci parla della raccolta fondi. Quello che è successo domenica al di là della vittoria finale è stato anche bello nel finale questa simbiosica che è stata tra il pubblico riminese e quello trevigliese. Abbiamo vinto ok ma loro dopo un'ottima stagione e dopo quello che noi abbiamo fatto il gesto anche quando lo speaker ha annunciato questa raccolta fondi che abbiamo fatto da Trefiglio vedere questo pubblico tutto in piedi a provodire con noi era da pelle d'oca, una cosa che ho mai provato. Emilia Romagna non mollare è proprio l'ennesima dimostrazione di una vicinanza che è stata molto apprezzata dal popolo di Rimini fra l'altro raccolta fondi tra i tifosi di Trefiglio in partenza proprio per la Romagna per dimostrare la propria vicinanza a un popolo come detto in grande difficoltà in questo momento. Con questo colgo l'occasione per, visto l'entusiasmo visto tanti ringraziamenti che abbiamo ricevuto abbiamo pensato di portare avanti questa raccolta fondi fino a sabato qui al Palafacchetti per la prima partita di playoff contro Torino. Per chi fosse interessato tramite dove si mettono i ranger per vendere sharp e t-shirt abbiamo anche una raccolta all'Urba Caffè via De Gas per i quattro. E nel fine chiudiamo con la disanima della partita da parte di coach Finelli. Prima di parlare della partita devo sottolineare che è stata ancora una volta una bellissima domenica di palacanestro qui a Rimini, qui in Romagna in un momento molto delicato ho due immagini che mi porterò via per sempre che mi hanno emozionato intanto un ringraziamento ai nostri tifosi che sono arrivati qui in massa e quando ho saputo dalla voce dello speaker che i nostri rangers avevano effettuato una raccolta fondi per la Romagna vedere tutto il palazzetto di Rimini tutti i tifosi in piedi ad applaudire mi ha fatto accapponare la pelle è un'emozione che non scorderò mai così come il grande tributo che ha il grande tributo dei tifosi di Rimini alla squadra che hanno giocato una grande stagione grandi playoff con un cuore una benegazione enorme nonostante le assenze questi sono due momenti che mi hanno colpito emotivamente a prescindere dalla partita poi logicamente abbiamo giocato una partita ottima la terza consecutiva con uno spessore difensivo notevole ringrazio tutti i miei giocatori per la grande disponibilità a combattere è logico che noi siamo in dieci avevamo un vantaggio competitivo con Rimini ma poi l'energia va messa in campo e in tutte e tre le gare praticamente la nostra energia la nostra intensità la nostra continuità al saper limitare i loro punti di forza ha scavato il solco tutte e tre le volte in maniera consistente di conseguenza il nostro attacco ha saputo fronteggiare tutte le trappole tattiche che coach Mattia Ferrari ha messo in campo dalla zona ai cambi difensivi ai raddoppi ai contenimenti diciamo che questo ci dà fiducia in vista delle semifinali a